Le promesse sono promesse, sono tornato, colazione semplice, sono stanco, molto stanco, ma faccio uno smoothies o una bowl di fragole e lamponi, vediamo un pochino gli ingredienti, buongiorno! Tutta frutta, banane, fragole, lamponi e un pochino di latte vegetale per rendere tutto più liquido e adesso frulliamo, molto facile no? Lo avevo promesso! Versiamo nella bowl lo smoothie di fragole e lamponi e vi faccio vedere una piccola cosa di cui non avevo parlato, un minimo di latte vegetale montato così andiamo a creare una cosa un pochino più spumosa, vediamo come si fa la solita cosa, si mescola bene, facciamo incorporare il latte vegetale e dovrebbe diventarci spumoso, lo controlliamo assieme, ci vediamo tra poco! Non è che è bella, è bellissima! Si mangia con gli occhi ragazzi, ricordatevelo da un po' che non ve lo dicevo, ma si mangia davvero sempre prima con gli occhi! Buona colazione, scatto e faccio l'assaggio! Cremosa, direi che bella cremosa! Eh sì! Che dire? Buon giovedì direi! Buon giovedì a tutti!